Un chiodo fisso che si chiama Champions League, un secondo posto ancora raggiungibile. L'Inter ha già chiamato con Piazzini per due volte, il Napoli deve rispondere. Amici sportivi, benvenuti al San Paolo, il saluto da Riccardo Gentile e Fabio Pecchia. È pronto il fischio dell'arbitro Gava, parte l'Avezzi nel mucchio, attenzione, colpo di testa! Di un soffio al lato! Crescito, prova il cross, c'è deviazione, attenzione, Kuzka, zona tiro, prova ad avvicinarsi. Kuzka carica il sinistro! Di un soffio al lato! Floro Flores, limite dell'area, morbido, cercando Paloschi, pallone dentro! L'ha toccato Antonelli! C'è Mesto sul punto di battuta, occhio al mucchio dei giocatori del Genoa, pronti a saltare, pallone dentro! Moretti, tra le braccia di De Santis! Ci prova ancora il Napoli, occhio al cross, di testa Moretti che allibera Gargano! Ancora possibilità, ancora Maggio, ancora cross, Eduard in qualche modo! E il pozzo alla Mazzica al sinistro! Che occasione! Vicino all'1-0 il Napoli! Parte Amsic, dentro, colpo di testa, si salva Edoardo! Che occasione per il Napoli! Lavezzi lascia sfilare, Dossena è pronto dentro Cavani, parte il cross! Cavani! Di un soffio Edoardo, incredibile! Si salva il Genoa! Maggio, insiste il Napoli, dentro! Lavezzi! Edoardo! A dire di no! Ancora una grande opportunità per il Napoli! Gargano tocca per Dossena, Polenta lo va a chiudere, Dossena trova il cross, ma non è dentro! Maggio, poi d'astro al volo! Ha provato Cavani! Edoardo ancora! Cavani, Amsic! Amsic! Bore che Amsic! È una polgia in San Paolo per i gol di Amsic! Qui la pizzicata perfetta di Cavani che ha giocato proprio per il compagno! E Amsic non ha sbagliato, stop, è radente! Lavezzi, che giocata! Lavezzi, dentro! Libera, crescito! L'ultimo brivido! Vince il Napoli, 1-0! Decide Marek Amsic! L'Inter ha chiamato con Pazzini, Napoli ha risposto! Vittoria fondamentale, oggi non voleva entrare, meno male abbiamo sbloccato alla fine e abbiamo portato vittoria in casa che è molto importante!